Buongiorno a tutti, ben ritrovati nel mio canale. In questo video intendo sviluppare alcuni concetti che sono fondamentali nella bioenergetica e che sicuramente possono esservi di aiuto per comprendere meglio tutto ciò di cui abbiamo parlato sinora. Infatti tra le domande nei commenti qualcuno mi ha chiesto di parlare del sé inferiore. Il sé inferiore che è l'opposto del sé superiore del quale io non avevo mai portato una spiegazione nel canale. E allora in questo video vedremo come è strutturata la personalità, gli strati della personalità secondo Willen Reich e Alessander Lowen. Il sé inferiore è un concetto che ho enunciato spesso anche parlando dei fiori di Bach. Vi ho detto che l'assunzione dei fiori di Bach mette in contatto con il sé inferiore, ovvero con quella parte di noi più evoluta, più spirituale, più connessa all'anima, che è in grado di vedere le cose dal punto di vista dell'anima e quindi che è in grado di farci leggere e tradurre gli eventi della vita in modo spirituale, secondo una visione spirituale e armonica. Ora vi mostrerò una delle mie mitiche mappe in cui ho disegnato tutti gli strati della personalità secondo la bioenergetica e anche la core energetica che è una metodica di lavoro sempre a mediazione corporea che è stata ideata da John Pierracos che ha collaborato con Willen Reich ed è una disciplina molto simile alla bioenergetica, ispirata proprio alla bioenergetica, con alcune differenze che può essere che in un altro video io vi spiegherò. Ma vi dico anche un'altra cosa, spesso le discipline vengono meno dal momento in cui si allontanano dal loro ideatore, questo perché ciascuno quando lavora con un metodo introduce anche qualcosa di personale e molte volte arricchendo queste metodiche, ma quando ci sono delle grandi menti come Eduard Bach, come Alexander Lowen, come Willen Reich e come questo John Pierracos, sono talmente elevati i valori che portano e le scoperte innovative che questi grandi personaggi hanno offerto all'umanità che il loro riuscito porta il segno di chi l'ha poi accolto e raccolto e portato avanti. Di conseguenza ricordo di avere discusso di questo con le persone che hanno accompagnato a me nel percorso e quello che mi è stato detto è che in realtà delle vere e proprie scuole che si sono occupate di portare avanti la core energetica non ci sono state dopo John Pierracos e la sua eredità è stata sicuramente passata, ma porta il segno di coloro che hanno raccolto questa eredità. Il senso originale si è un po' perso. Esempio pratico, voi sentite parlare spessissimo di cinque ferite e di maschere e non c'è più quella precisione, quel concetto originario che è stato invece introdotto da Willen Reich accanto a questi concetti e mi capita di incontrare persone che confondono la difesa delle cinque ferite con la maschera, mentre in realtà sono due concetti ben differenti. Per cui quello che volevo chiarire è che io mi rifaccio ai contenuti originali della bioenergetica e della core energetica e nella mia formazione ho lavorato con persone che hanno raccolto il messaggio originale di queste discipline. Le stesse cinque ferite che sono state descritte bene nel libro della Liz Bourbeau sono state poi interpretate da tantissimi psicologi, terapeuti e sono state secondo me molto semplificate e molto edulcorate e a volte si perde il significato reale. E quello che mi sforzo di fare invece su questo canale è cercare di portarvi il messaggio e i contenuti autentici più vicini alla fonte che è la bioenergetica stessa e quindi vi presento la mappa della personalità. È un bersaglio come potete vedere e ha diversi strati. Diciamo che chi l'ha ideata e in questo caso si tratta di John Pierre Racos perché questa mappa lo tratta dal libro della core energetica ha individuato vari strati sempre più profondi della personalità in cui ci sono posizionati ad un certo punto nella loro giusta sede sia il sé inferiore che il sé superiore. Così andremo poi a spiegare cosa sono veramente. Questa è la mappa della personalità. vediamo che all'esterno abbiamo le maschere. Le maschere che come io ho ripetuto più volte sono soltanto tre per cui non esiste la maschera del masochista non esiste la maschera dell'orale anche se troverete questi contenuti altrove. Le maschere sono tre possono essere indossate da chiunque poiché sono qualcosa che viene indossato per certi versi inconsapevolmente ma ad un certo punto anche consapevolmente. Mi spiego se io voglio farmi compiacere da una persona, farmi vedere servizievole indosserò la maschera dell'amore. Se io voglio tradire una mia insicurezza indosserò la maschera della serenità. Se io mi voglio far ubbidire, che è una parola che odio, ubbidire, in quanto è un esercizio di potere, infatti se io mi voglio far ubbidire devo indossare la maschera del potere. Dico che odio questa parola perché ogni volta che mi sono trovata a dirlo ai miei figli mi sono sentita che stavo ricoprendo un ruolo che non avrei mai voluto rivestire. Però non è del tutto sbagliato alcune volte. Mi ricordo di aver usato questa parola soprattutto quando in quel momento io sapevo cosa dovevano fare i miei figli e non avevo tempo in quel momento di fornire loro le adeguate spiegazioni. Allora mi è uscito proprio dalla bocca ubbidisci come per dire fai e in questo momento prendi la cosa così com'è mentre in una successiva sede che ti spiegherò perché ti ho dato questo ordine. Ma è qualcosa che è molto in contrasto col mio modo di intendere le relazioni tra gli esseri umani. Perciò le maschere le usiamo tutti indipendentemente dalle ferite che abbiamo. Le maschere inconsapevoli indossate dalle persone quando sono nella loro ferita primaria sono la maschera della serenità indossata dalla ferita da rifiuto e dalla ferita da ingiustizia, la maschera dell'amore indossata dalla ferita da abbandono e dalla ferita da umiliazione e la maschera del potere che è la prediletta della ferita da tradimento. Questo non vuol dire che ciascuno di noi indipendentemente dalla ferita che possiede come primaria o come attiva in quel momento possa in realtà indossare a piacimento una qualsiasi di queste tre maschere e si chiamano maschere perché denotano che noi stiamo recitando un ruolo che non è il nostro. Le maschere sono appunto delle strutture di facciata, di copertura, mentre invece i sentimenti autentici vengono espressi sia dal sé inferiore che di solito esprime una rabbia ma può esprimere anche un'autocommiserazione, può esprimere tutte quelle espressioni negative di noi che di solito adottiamo quando le maschere non funzionano, non reggono la parte e sono distruttive, fanno del male a noi e fanno del male agli altri. Quindi andiamo di nuovo al bersaglio. All'esterno abbiamo queste maschere di cui io ho accennato brevemente adesso, riprendendo il discorso di cosa siano in realtà queste maschere. Subito sotto le maschere abbiamo l'armatura caratteriale, armatura caratteriale o difesa, che è rappresentata esattamente da quella parte che io ho mostrato quando ho portato i diagrammi della struttura energetica delle cinque ferite nei video dedicati alla bioenergetica. Se vi ricordate bene, la difesa della ferita da rifiuto è interna, è proprio vicina al centro del corpo e quindi sono fuori dalla difesa gli arti, la testa, i genitali, mentre nella ferita da abbandono questa difesa consente un'apertura verso gli occhi e verso i genitali, che sono le due fonti di tra virgolette manipolazione utilizzate dalla ferita da abbandono per mostrarsi bisognosa di affetto, bisognosa di protezione o seduttiva. Nella ferita da tradimento abbiamo due difese posizionate, una a livello della testa, infatti, l'illusione e la lontananza dalla verità, quindi quinto e settimo chakra, sono tipiche della ferita da tradimento e quindi c'è un iper funzionamento dei pensieri e anche della gola, quindi della voce, del dire, del raccontare qualcosa di diverso dalla verità. Parimenti c'è una difesa che isola dal piacere, è qualcosa che chi ha la ferita da tradimento si nega, semplicemente perché non si fida e quindi non si apre veramente con l'altro, né dal punto di vista dell'amicizia né dal punto di vista di rapporti amorosi e in questo caso ovviamente c'è l'esercizio della maschera del potere. L'esercizio del potere e l'armatura invece della struttura conferita da umiliazione sappiamo chi è questo grasso e questi muscoli iper sviluppati che proteggono il nucleo dilatato in cui c'è proprio questa difesa che è rappresentata dall'ipertrofia muscolare, cioè una muscolatura possente, ricoperta anche da uno strato di grasso. Quindi la difesa che viene definita armatura caratteriale è fisica, è qualcosa di presente nel corpo e nella muscolatura. Vi ricordate che la difesa del rigido per esempio è subito sotto la pelle e infatti chi ha la struttura rigida ha una discreta tonicità sia muscolare che del tessuto connettivo e della pelle per cui risulta difficilmente penetrabile. È una struttura solida che tiene fuori da sé tutte le emozioni, tutte le sensazioni, non lascia entrare nel proprio spazio ed è qualcosa collegato anche qui al fisico, al corpo. Subito sotto, e questa è la domanda che mi è stata posta, abbiamo il sé inferiore, il sé inferiore che rappresenta la parte distruttiva di noi, che rappresenta la parte distruttiva totalmente fuori controllo, per cui non è l'arrabbiatura benigna che noi prendiamo e che divampa e in un secondo dopo scompare. È la volta in cui abbiamo urlato e inveito contro qualcuno senza alcun ritegno ed eravamo pronti a mettergli le mani addosso, anche se magari ci siamo dovuti trattenere o ci ha trattenuto qualcuno. Questo è uno stato in cui nel corso della vita si finisce, c'è sempre qualcosa, la famosa goccia che fa tracimare il vaso. Il sé inferiore è una forza distruttiva potente, è qualcosa di molto molto intenso, così intenso che è difficile da reggere per gli altri. È Gesù che ha cacciato i commercianti dal tempio, questo è il sé inferiore per intenderci e sappiamo che non ci è andato molto per il sottile quella volta, ed era Gesù. Quindi questo è il sé inferiore. Subito sotto il sé inferiore c'è il sé superiore che la core energetica definisce appunto core, che è la parte di noi più evoluta, più splendida, più armonica e si trova in una parte profonda della nostra personalità, perché è nascosta da tutti questi strati. E da qui deriva il senso del lavoro di counseling a mediazione corporea, perché la parte di noi, quella veramente meravigliosa, appare solo dopo che abbiamo levato tutti questi strati. Quindi il lavoro che si fa quando si inizia un percorso di counseling a mediazione corporea o quando si inizia un percorso, anche con i fiori di Bach, perché no, si destrutturano tutte queste parti per cui all'inizio cadono le maschere, poi si arriva all'armatura caratteriale e c'è un rilassamento delle nostre difese. Spesso prima del rilassamento c'è un'accentuazione delle nostre difese, perché quando incontriamo qualcosa che ci fa veramente arrabbiare, escesse inferiore. Per cui l'armatura caratteriale è più facile romperla da dentro, quando escesse inferiore, piuttosto che da fuori. Da fuori la si può smantellare poco alla volta, lavorando sul corpo, con dei massaggi, anche iniziando a sperimentare l'espressione del sé inferiore, che impedisce alle emozioni di entrare, ma impedisce anche al sé inferiore di uscire, bisognerebbe concedere di tanto in tanto a questo sé inferiore una valvola di sfogo. Quindi l'armatura ha una doppia funzione, quella di proteggerci dall'esterno, ma anche di trattenere questa parte potenzialmente distruttiva. E soltanto dopo che abbiamo esaurito questa parte distruttiva o che abbiamo minato questa armatura caratteriale, che il sé inferiore esce un pochino più frequentemente. Però quando succede questo, quando abbiamo smantellato la struttura di carattere, quando abbiamo sciolto questa armatura muscolare fisica presente nel corpo, come esce il sé inferiore, c'è la possibilità anche che esca con tutto il suo splendore il sé superiore. E quando diciamo che i fiori di bacca agiscono sugli strati della nostra personalità, che è costituita appunto da strati come una cipolla, sicuramente, poiché abbiamo visto che ci permettono di accedere al sé superiore i fiori di bacca, agiscono in questo modo. All'inizio facendo cadere le maschere, poi allentando la forza della struttura di carattere, quindi diminuendo l'energia che noi investiamo per tenere questa struttura di carattere al massimo della tensione e quindi per proteggerci sia dall'esterno che dalla fuoriuscita di quello che abbiamo dentro, dell'incazzatura proverbiale che tutti quanti abbiamo dentro fino a quando non abbiamo lavorato sullo smantellamento della nostra struttura di carattere, della nostra difesa e abbiamo permesso a questo sé inferiore di uscire. Infatti a me capita che a volte le persone che stanno anche solo e semplicemente prendendo i fiori mi dicano che si accentua la loro reattività. Accade sicuramente quando si lavora sul corpo emozionale e quindi quando si lavora nelle sessioni di counseling a mediazione corporea, ma accade anche quando si assumono i fiori di bacca, prima o poi si arriva a quel punto lì, a una maggiore reattività ed è un segnale positivo perché indica che la difesa comincia a cedere. Quando cede la difesa, prima ci sarà la manifestazione di qualche bella sfuriata, per cui le persone intorno non ci riconoscono, dicono ma di solito era calmo e tranquillo, guarda qua cosa è successo, ma quando si arriva a questo si avvicini anche alla fuoriuscita della parte migliore di noi, di questo sé superiore. Questo video termina qui, ho fatto questa bella chiacchierata per spiegarvi come funzioniamo e per rispondere alla domanda che mi è stata posta sul sé inferiore. Ora, volevo aggiungere soltanto una riflessione. Il sé inferiore mi è stato chiesto se corrisponda al bambino interiore. Non è del tutto sbagliato collegare questo sé inferiore al bambino interiore, nel senso che il bambino interiore conserva tutte quelle istanze che sono state disattese dalle circostanze che ci hanno fatto strutturare le nostre difese e hanno provocato le nostre ferite e tantissimi percorsi parlano di bambino interiore. Io qui volevo rompere uno schema e dire che il bambino interiore è molto incazzato, è arrabbiatissimo. Per cui non sono così sicura che in realtà voglia essere accolto, amato. Io credo che prima abbia diritto, un vero diritto, di esprimere questa parte. Spesso molti lavori di consapevolezza saltano pie pari l'incazzatura del bambino interiore che corrisponde appunto al sé inferiore e in questo caso ci ha visto giusto la persona che mi ha posto questa domanda. E quindi con questa affermazione anche un po' provocatoria vi lascio, vi mando un grande abbraccio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!